sarò onesto con voi ma ho tergiversato e non poco nella pubblicazione di questo contenuto perché nel frattempo è uscita una notizia di calcio che ha suscitato e non poco il mio interesse poi però ho detto ok si è pur sempre la juventus che batte in casa la salernitana gli ottavi di coppa d'allea non c'è sta niente di strano ma non è una vittoria di orto muso quindi diamo la priorità ai bianconeri poi domani con calma si fa sempre in tempo a parlare della somiglianza di miglietarian con pippo franco hashtag pippo franco qui sotto nei commenti e domani me ne faccio un contenuto bello dettagliato poi se volete se vi piace quel contenuto vi porto anche in merito il parere del buon fabbio bentornati e ben ritrovati sto a scherzare ragazzi per chi non avesse capito se volete lo faccio ben tornati e ben ritrovati abbiamo il quadro completo dei quarti di finale di coppa italia qui darò una piccola preview anche ovviamente sulle altre partite che ci saranno chi affronterà la juventus quelle che saranno le altre partite ma ci dobbiamo concentrare soprattutto sul campo sul campo giocato sul calcio giocato scusatemi lasciate mi piace per continuare a supportare questo genere di contenuti se vi iscrivete attivate la campanella non vi perderete più neanche un video resterete sempre aggiornati con la relativa notifica ogni volta che vi butto fuori in contenuto e chiedo a tutti quelli che seguono sempre questo canale ma che ancora non si sono iscritti di farlo mi farebbe veramente tanto piacere due canali di calcio un extra calcio in descrizione come sempre compariranno qui durante il video allora Pippo Franco, Pippo Franco e Michele... ah no scusate non me l'aspettavo e sapete per quale motivo? perché poi la Salernitana veniva, viene da un periodo sicuramente positivo nonostante poi ok uno guarda la classifica e dice sono pur sempre ancora gli ultimi della classe però l'arrivo di Sabatini sicuramente ha dato una svolta in positivo a questa Salernitana e mi aspettavo diciamo una partita più combattuta sotto un certo punto di vista considerato poi che comunque la Juventus spesso e volentieri anche con realtà del genere dimostra magari di far partite più tirate, partite più ragionate e invece oggi abbiamo visto esattamente l'opposto oggi dati positivi, non solo statistici per i gol fatti ma proprio in termini di come sono state create determinate occasioni di come determinati calciatori della Juventus sono stati veramente incredibili e potrei continuare veramente all'infinito perché sono tanti secondo me i punti positivi questa prestazione della Juventus secondo me non è neanche un caso è un chiaro segnale che si vuole lanciare anche a tutte le altre concorrenti ancora in corsa come a dire, visto che l'Inter è uscita e che l'Inter sta dimostrando qualcosa in più in Serie A rispetto a noi sappiate che siamo pur sempre i secondi della classe e che siamo una squadra ambiziosa di conseguenza vincere in questo modo poteva essere anche un monito un segnale per le altre, come a dire, portate rispetto a quella che all'interno della competizione tecnicamente sulla carta dovrebbe esserla più forte io l'ho letta sotto questo punto di vista la Juventus ci teneva a far bene soprattutto perché la sua concorrente di questa stagione per eccellenza è stata eliminata dal Bologna e poi guardiamo le formazioni come facciamo sempre in realtà sì, il turnover da parte di Allegri in parte è stato fatto ma Allegri non vuole in questa partita rinunciare ad alcuni dei suoi calciatori più in forma uno tra tutti e adesso ne parliamo con calma il paradosso, e forse lo dimostra anche lo stato di forma attuale della Salernitana è che la Salernitana era partita veramente a bomba ragazzi io guardando i primissimi minuti il gol dell'1-0 della Salernitana addirittura, se non ricordo male, due o tre minuti dopo no, era il settimo minuto ci avevano avuto anche una seconda occasione da rete ho detto, sta partita per la Juventus va a finire male cioè rischiano veramente di far danni più di quelli che stavano facendo fino a quel momento perché poi i gatti ogni tanto c'ha ste sviste clamorose ragazzi, non lo so che cosa gli parte gli si attappa la vena o gli si oscura la vista, che vedevo di se lamentava di un fallo io l'ho rivisto, ragazzi cioè, lo avrà sbilanciato ma per me non c'è stato minimamente manco una trattenuta non ho visto una cosa ha perso equilibrio, ok? va bene, ha messo la palla in mezzo veramente disastrosa dove si lancia a capofitto i quei mesi e segna il gol dell'1-0 fino a quel momento per i dati appena cominciata la partita hanno approfittato perfettamente dell'errore, no? e poi però, ragazzi la Juventus ha cominciato a giocare a pallone e questo è anche un altro dato che va considerato, no? una squadra che se non sei in fiducia lo dimostrano altre realtà prendere un gol così a bruciapero seppur all'inizio c'è tutta la partita davanti li avrebbe potuti portare ad una partita veramente in salita e difficile, no? da superare invece i bianconeri praticamente immediatamente cominciano a a giocare a pallone ecco, questa è un'altra analisi questo è un altro dato che secondo me va analizzato perché quando la Juventus se può permette di difendere la situazione il risultato di gestirla è una squadra che si prende tutto il tempo del mondo quando passi in svantaggio non c'hai più niente da difendere non c'hai più niente da essere compatto da essere solito saltano tutti gli schemi saltano tutte le strategie iniziali hanno cominciato a giocare a pallone e poi sono rimasti su quella lunghezza d'onda perché dice stai a perdere devi far meno due dato che ci stiamo famo in arte 5-6-7 non so se me so se me so spiegato e va sottolineata su tutti è il primo che devo nominare la prestazione clamorosa da parte di Federico Chiesa Federico Chiesa oggi praticamente è protagonista in quasi tutte le reti dei dei bianconeri un giocatore veramente strepitoso un giocatore che sta affrontando uno stato di forma veramente molto molto importante è inutile che lo che lo ne chiamo l'ho sempre detto dai tempi dell'europeo vinto dall'Italia ho detto in generale parlo parlo di Chiesa in generale non solo per per la Juventus in qualsiasi squadra lui si trovasse ad oggi sarebbe veramente un giocatore imprescindibile una volta per un calcio d'angolo battuto una volta per una palla messa a mezzo una volta per una giocata che magari esce fuori di poco e sfiora l'incrocio dei pali Chiesa è il faro di questa di questa Juventus Miretti veramente giocatore pazzesco io lo dico già da un po' che in realtà dall'inizio da quando l'ho visto esordire con con la Juventus ho detto sto ragazzo c'ha veramente stoffa è un ragazzo che sta mettendo tanta esperienza in cascina e comincio anche a pensare di quanto il processo di crescita di questa squadra seconda in classifica passi anche dai giovani è uno dei pochi casi in cui una grande realtà seppur si è ridimensionata negli ultimi anni i tanti giovani anche per esigenze del bilancio buttati nella mischia stanno funzionando a dovere e potrei farvi tanti e tanti nomi in realtà situazione calcio di rigore rigore tolto io no a me sembrava a occhio mi sembrava rigore ma difficile veramente dirlo con la tecnologia il calcio di rigore in quel caso è stato tolto quindi non metto assolutamente becco Chiesa che continua a creare occasioni da rete la juventus che ti ribalta la partita con cambiaso funziona molto bene sta cosa delle spode di testa in area e miretti buttate qua e cambiaso buttate là un po' più defilato e via dicendo anche cambiaso comunque mi piace tantissimo come calciatore dal momento in cui sono passato in vantaggio io avevo assolutamente capito che la juventus l'avrebbe semplicemente gestita la partita e che non avrebbe più permesso alla salernitana di impensierirli in nessun modo il plus poi vabbè i call nel secondo tempo e via dicendo il plus secondo me di questa di questa cioè un io lo chiamo puzza mano ma si chiamano come si chiamano le cimici mamma mia ragazzi è tutta oggi che a me sta fan pazzì che va a destra e a sinistra e il plus ildiz soprattutto mi sono dimenticato come giovane come calciatore il plus di questa squadra è che quando deve giocare e vincere le partite di orto muso comunque anche soffrendo se le porta a casa quando capiscono che possono infierire sull'avversario la juventus dimostra quello che ha tutto il suo potenziale anche dal punto di vista offensivo cioè tante e tante volte e questa è la percezione che ho io è che la juventus gioca col freno a mano tirato dal punto di vista offensivo perché preferisce l'equilibrio perché preferisce segnare 3-4 due gol di meno un gol di meno però essere sicuri di non subirne di subirne meno cioè la filosofia di Allegri è segnare un gol in più dell'avversario non gli interessa da aspettare questa è la cosa che poi i difusi della juventus continuano a non digerire però io credo e lo ribadisco ancora una volta detto in maniera diversa ma tanto il concetto è sempre lo stesso che alla fine l'unica cosa che conta nel calcio è il risultato per quanto poi sicuramente i difusi della juventus stasera se saranno divertiti hanno visto un'altra faccia dei bianconeri hanno dimostrato la juve Allegri ha dimostrato che possono anche offrire spettacolo e fare tante reti quindi fatevelo bastare per le prossime 417 partite perché d'ora in poi continuerete a vincere sempre 1-0 1-0 ribadisco pazzesco la juve che riparte praticamente lo possiamo dire in questo nuovo ciclo dai dai giovani da alcune certezze da alcune nuove leve vedi il se lo ribadisco ancora un'altra volta e se ne vanno ai quarti di finale di coppa italia non ho parlato di fiorentina bologna lazio roma milano atalanta e juventus frosinone che sono i quattro quarti di finale la vincente tra roma e lazio becca la vincente tra juve e frosinone la vincente tra fiorentina e bologna becca la vincente tra milano e atalanta poi magari dedicheremo un contenuto più dettagliato però la juventus c'è e lancia allegri lancia un chiaro segnale a tutte le altre pretendenti vogliono vincere la coppa italia senza l'inter de mezzo vediamo quello che succederà alla prossima con un nuovo video